Oggi mi voglio mettere alla prova con un piatto tipico marchigiano, anzi di Porto Sant'Elpidio, perché è proprio qui a Porto Sant'Elpidio che ogni anno c'è la sagra dell'Usardungi scottaditu, cioè dell'alici a scottadito, o meglio ancora, le alici panate al forno. Per prima cosa pulisco le alici togliendo la testa e le viscere. Quindi le lavo e le metto ad asciugare. Quindi gli ingredienti sono le alici, il pan grattato, il sale, l'olio extravergine di oliva, il peperoncino, l'aglio e il prezzemolo. Quindi frullo, aglio, prezzemolo e pan grattato. Passo le alici nel pan grattato da entrambe le parti, poi le metto una ad una in una teglia da forno, dove ho messo della carta da forno e un filo d'olio. Grazie. Grazie. Aggiungo un filo d'olio e le metto in forno a 180 gradi per 10 o 15 minuti. Le alici scottadito sono pronte. Speriamo bene. Buon appetito!